Radio Fano è venuto a far visita al comune di Monteporzio alla scoperta delle bellezze del nostro territorio all'interno del programma Viaggio in Provincia. In questo breve video Milena si prepara ad intervistare Lorenzo Fiscaletti, nuovo presidente della Proloquo di Monteporzio e Castelvecchio. Ricordiamo per chi volesse ascoltare le varie interviste e le notizie sul territorio di Monteporzio l'appuntamento per lunedì 22 giugno ore 11.30 Viaggio in Provincia su Radio Fano.